Verifiche strutturali, piani di esodo adeguati, esercitazioni nelle quali coinvolgere la popolazione. Occorrono misure urgenti per i campi flegrei, perché di fronte all'emergenza non bisogna farsi trovare impreparati. È il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, che chiede attenzione massima e impone un'accelerazione sul fronte della prevenzione. Ieri è presieduto un vertice dal quale è emersa la necessità di predisporre un decreto legge per semplificare le procedure di analisi della vulnerabilità del territorio, migliorare le infrastrutture di trasporto e far eseguire esercitazioni di protezione civile. Al vertice convocato dal ministro Musumeci hanno partecipato, fra gli altri, il capo dipartimento della protezione civile ed il capo del settore legislativo del ministero. Sul tavolo un'analisi delle misure urgenti di prevenzione rispetto al fenomeno del bradesismo e il rischio sismico nei campi flegrei. Dal vertice, che si è protratto per oltre due ore, è emersa la necessità di predisporre un provvedimento di legge che consenta di affrontare i problemi attuali, illime allagurate, emergenze future con celerità, soprattutto dopo le ultime scosse che hanno allarmato non poco la popolazione. Ed è di questa mattina la notizia che la Regione Campania, attraverso la protezione civile regionale, sta organizzando un'esercitazione di evacuazione. A dare l'annuncio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Abbiamo già deciso di fare, ovviamente in via sperimentale, anche un'esercitazione in relazione al piano di evacuazione. Ovviamente non potremmo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate, ma potremmo fare un'evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po' la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza. Ovviamente non siamo di fronte a situazioni di particolare allarme, perché il controllo avviene praticamente 24 ore su 24 sui campi flegrei.